Tori, riceve, sottila il palleggio, può attaccare Ornaut, è finita, è finita, 25 a 21, Latina, batte, Modena, 3 a 1. 71esimo campionato Super Lega Unipol Sai, il sogno continua, vola con noi, campagna abbonamenti 2015-2016, sostieni la squadra della tua città. Cerca tutte le info su www.topvolley.it Grazie per la visione!